Amara sconfitta per l'arezzo calcio femminile che tra le muramiche del campo Laurentini perde il quinto turno del campionato di Serie B contro un attrezzato sassuolo, importante forza del girone. Forte del ritorno della centrocampista Laura Verdi, rientrata dalla squalifica scontata lo scorso weekend, il tecnico Amaranto propone nuovamente il 4-4-2 con Antonelli tra i pali, Casula, Terini, Tecce e Mencucci in difesa, Baracchi, Arzedi, Verdi e Paganini a centrocampo, Nocchi e Di Fiori in avanti. Dopo una prima fase di studio a centrocampo, al 24esimo il sassuolo passa in vantaggio. Costi sblocca il match con un preciso diagonale che finisce alle spalle di un incolpevole Antonelli. Sul finire di primo tempo arriva il raddoppio del sassuolo grazie alla solita Costi che, servita da Corradini, calcia la sfera all'incrocio dei pali. Nella ripresa, solo 4 minuti dall'inizio, arriva il 3-0. Mastro Vincenzo, dalla destra dell'area di rigore, trova l'angolino opposto di Antonelli. Malgrado il fluido gioco delle Amaranto, all'undicesimo del secondo tempo il sassuolo allunga ancora, ripletta per Costi trovata sul filo del fuorigioco. La prestazione delle retine è comunque tenace e decisa, ma ad 8 minuti dalla fine assist di Corradini, Faragò, mette dentro la rete del 5-0. Il tempo agli sgoccioli, l'Arezzo comunque non si dà per vinto e all'ottantacinquesimo guadagna il gol della bandiera con un colpo di testa di Di Fiore. Il triplice fischio del direttore di gara decreta la vittoria del sassuolo per 5-1, ritardando l'appuntamento delle retine con la prima vittoria in campionato e fermandole al dodicesimo posto della classifica. Manuela, quest'oggi è bene il sassuolo, ma è l'Arezzo. 5-1 pesante, ma probabilmente vincite l'altra volta non sono queste partite da vincere, sono quelle come domenica. L'avevo già letta la partita, solo che oggi noi non siamo entrati in campo neanche per un minuto. Troppo molli, il sassuolo come ho detto ambisce per la Serie A, ci sono esattamente 6 giocatrici che giocavano l'anno scorso in Serie A, quindi la differenza c'è, la si sapeva per noi che prepariamo le partite. Il problema purtroppo questa settimana è stato anche non avere un campo a disposizione per fare l'allenamento. Non abbiamo potuto fare, abbiamo fatto soltanto due allenamenti e sinceramente per crescere due allenamenti sono troppo pochi e i risultati poi si vedono. Domica, adesso un incontro con il Pescara che vale un incontro più o tre punti. Sì, speriamo di poter preparare la partita, quindi speriamo di poter trovare un campo in cui allenarci e sicuramente quelle sono le partite in cui noi dobbiamo fare punti, assolutamente. E quindi prepareremo la partita per portare a casa i primi tre punti che sarebbe anche ora, anche perché oggi fino al 24esimo il sassuolo non aveva assolutamente fatto niente e abbiamo avuto una disattenzione, sulla disattenzione abbiamo preso il primo gol e poi l'altro l'abbiamo preso al 44esimo, questo è il sintomo che non si era concentrata. Siamo qui con gli atti del Sassuolo, allora quest'oggi Sassuolo che ha vinto 5-1 un passivo pesante per Arezzo, un passivo abbastanza bello per il Sassuolo che veniva da sconfitta 1-0 contro Vittorio Veneto, uno sconto diretto diciamo quasi. Sì, sono soddisfatta della squadra perché oggi ha approcciato bene la partita, effettivamente domenica scorsa siamo state un po' sfortunate, oggi invece è andata bene soprattutto perché abbiamo sbloccato con Fabiana Costi la partita, questo ci ha messo un po' tranquille perché non eravamo molto serene ultimamente, mancavano i gol, mancavano i risultati e per le ambizioni che abbiamo noi questo sentivo che stava iniziando a pesare, però per il gioco ero abbastanza serena, devo essere sincera perché stiamo lavorando bene e quindi i risultati prima o poi arrivano. Comunque è un Sassuolo che lotta per la promozione contro Vittorio Veneto, insomma per la promozione fra l'ultimo. Ma adesso dopo questa partita starei con i piedi bene a terra perché dobbiamo dare continuità ai risultati e oggi abbiamo fatto un passino in avanti però non vorrei ricaricare di troppe ambizioni e aspettative le ragazze perché dobbiamo giocare partita per partita e cercare di fare il massimo come abbiamo fatto oggi. Mi dispiace oggi contro la mia amica Manuela che forse abbiamo fatto la miglior partita del campionato perché mi dispiace però faccio un grande in bocca al lupo a Manu e all'Arezzo Manu che è una grande allenatrice e all'Arezzo che sono sicura che durante l'anno il lavoro del mister si farà sentire. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.